Siamo con il mister dell'US San Salvo, mister Nicola Marcello. L'US San Salvo esce allo stadio Aragona dai play-off, ma esce indubbiamente a testa alta con una vittoria contro il Vastromarina. Sì, come hai detto tu, oggi abbiamo disputato una buonissima gara. Siamo venuti qua convinti tutti di giocarci alla partita, i ragazzi poi l'hanno dimostrato in mezzo al campo. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente quest'anno hanno ottenuto tutto quello che c'era da ottenere. E' mancata magari solo la ciliegina sulla torta che poteva rappresentare la qualificazione e magari la promozione in eccellenza. Noi siamo stati sfortunati, se vogliamo, per il piazzamento in classifica, essendo arrivati 15, ci toccava affrontare la seconda e sappiamo tutti che il Vastromarina era la seconda classificata, il camionato che ha disputato. Comunque, questo non deve sminuire tutto ciò che di buono hanno fatto i ragazzi quest'anno. Veramente un gruppo splendido, più soddisfazioni di quello che ci ha dato credo non potesse dare. Oggi siamo venuti qua convinti di giocarci la partita e credo si sia visto in mezzo al campo. Abbiamo avuto minimo tre palle goal nette, nitide, così da sfruttare. Purtroppo è andata male, poi c'è stato l'episodio del rigore. Comunque, niente, di nuovo faccio veramente i complimenti ai ragazzi, alla società e quest'anno alla società del Sanzaro perché ha fatto delle cose eccellenti. Un in bocca al lupo al Vastromarina per questo cammino che prosegue nella sfida di domenica prossima. Mister, indubbiamente una grande annata con la vittoria della Coppa Italia di promozione, la vittoria della Coppa Disciplina, anche il miglior realizzatore con Alberico e un'ottima prestazione anche se vi è stata l'uscita odierna contro il Vastromarina. Una nota di merito va anche ai tifosi che hanno seguito per tutta la stagione sia dentro che fuori il team San Salveso. Questo è chiaro, l'hai detto tu. Abbiamo dei ragazzi che difficilmente si vedono sui cambi della promozione che ci hanno sostenuto, ci hanno incoraggiato in tutte le partite, sia quelle interne che fuori casa. E anche oggi si è visto il calore e l'incitamento che hanno dato ai ragazzi. Dispiace anche per loro per aver concluso qui il nostro cammino, però credo che sia stata veramente un'annata ricca di soddisfazioni. Come hai anticipato tu, una squadra che parte così con propositi non bellicosi magari, poi conquista durante il corso del camionato i play-off, conquista la Coppa Italia di promozione, cosa che non era mai capitata alla società del San Salvo, Coppa Disciplina, i miglior bomber. Come ho detto prima, la ciliegina sulla torta poteva essere la qualificazione al turno successivo e chissà, magari la promozione in eccellenza. Però credo che non dobbiamo rammaricarci per come sono andate le cose. Usciamo da questa competizione, eliminati dal Vasto Marina, che ha fatto il campionato insieme al Sulmona alla stragrande. Venendo a maggior ragione a vincere qui oggi a Vasto, io personalmente sono soddisfatto e credo che tutti i tifosi del San Salvo, tutti i cittadini di San Salvo debbano sentirsi soddisfatti. Siamo con il Presidente del Vasto Marina, Remo Grassi. Presidente, oggi una sconfitta, ma l'importante era passare il turno dopo una grandissima stagione. Ovviamente è stata una qualificazione non facile contro l'US San Salvo. Sapevamo dall'inizio che questa partita era una partita difficile. Fortunatamente siamo riusciti ad aggiudicarci l'andata 1-0, quindi abbiamo dormito più tranquilli. Di fatti si è visto i giocatori in campo, il primo tempo hanno sofferto abbastanza. La nostra sofferenza è stata pure dovuta al fatto che non siamo abituati a giocare su questo campo. Quindi i ragazzi ne hanno resenditi. Noi a Vasto Marina abbiamo giocato un campionato intero sulla terra abbattuta. Laci abbiamo tutte le misure, le geometrie e tutto. Purtroppo siamo venuti qua per motivi di sicurezza. Mi sembrava anche giusto una partita del genere, giocarla in un campo così stupendo. Ci dispiace aver perso 1-0 perché abbiamo sbagliato sia un rigore all'andata che al ritorno. Questo dispiace. Però l'importante era raggiungere l'obiettivo, l'abbiamo raggiunto. Dobbiamo ricaricare le batterie adesso per la prossima partita che da come mi hanno detto è con il penne che ha vinto 2-0 in casa. Ce la metteremo tutta. Il nostro obiettivo comunque è quello di salire in eccellenza. Fino adesso abbiamo raggiunto tutti i traguardi. Speriamo di raggiungere anche il resto, di vincere domenica prossima. Come si preparerà adesso la squadra Presidente in vista di questo delicatissimo match importante contro il penne? Noi ci stiamo arrivando qui alla Ragona già da due settimane. Non sappiamo ancora qual è il campo per la partita perché quella sarà un scontro unico. Penso che la squadra era pure abbastanza congelata pure oggi. Forse abbiamo sofferto un po' questo campo e dopo di che abbiamo fatto un campionato strepitoso. I ragazzi sono uomini pure loro, non li possiamo dare addosso. Giustamente è stato faticoso il campionato, è i ritmi nostri fino all'ultima partita. Però penso che l'ambiente stia tranquillo, noi siamo tranquillissimi. I giocatori conosciamo il loro valore, non dobbiamo dirlo noi. Giustamente diceva prima l'amico Valerio che noi abbiamo fatto uno squadrone. Loro hanno vinto qui, c'ha ragione, complimenti a loro che hanno vinto 1-0 qui. L'importante per me era passare il turno, il nostro obiettivo era raggiunto. Il loro pure, quindi siamo guantati tutti e due. Siamo col Presidente dell'US San Salvo, Valerio Torricella. Esce oggi il team san salvese, ma esce indubbiamente a testa alta una grande stagione, Presidente. Buonasera. Esce a testa alta perché questi che dicevano che avevano 30 punti più di noi, alla fine hanno dimostrato che tra i 180 minuti non hanno fatto niente di più di quello che abbiamo fatto noi. Sicuramente con i bidoni, io li chiamo bidoni, perché quando tu paghi quei soldi un giocatore poi non ti fa la differenza in un campionato di promozione e un bidone. C'avevo davanti a me Lucio Rullo, no Lucio Rullo, va bene, quello della fonda, non c'avevi i bidoni migliori da mettere in campo di questi. Quindi sarò anche polemico, ma è così. Io ho fatto un campionato spendendo 110.000 euro, l'euro quasi 500.000 euro, quindi la differenza in campo ci doveva essere. Sicuramente ti ferò il penne perché odio Vasto, quindi è così. E dico sempre forza US San Salvo. Poi speriamo, nella provvidenza, tutto può essere, che magari noi andiamo avanti e loro no. Siamo con il tecnico del Vasto Marina, mister Massimo Vecchiotti. La squadra oggi ha perso, mister, ma ha vinto l'andata, in virtù quindi dello stesso punteggio e della migliore posizione raggiunta in classifica, ha superato il turno. Come ha visto la sua squadra nella partita odierna? Sicuramente siamo partiti un po' contratti, avevamo non due risultati, ne avevamo tre, addirittura anche la sconfitta, che poi è giunta al 94esimo. Credo che la partita sia stata decisa dagli episodi, tutto sommato loro non hanno mai tirato in porta. Noi potevamo chiuderla decisamente, sia con il rigore che con qualche occasione creata da Contini. Tutto sommato i ragazzi non rimproverono niente, hanno fatto una stagione esaltante. Credo che il passaggio sia ampiamente meritato, a differenza di ciò che ha detto il Presidente, che anzi, visto che mi trovo qua, preferisco non commentare perché mi sembra palese che le sciocchezze del Presidente di questa squadra non costano 500 mila euro. non sono bidoni, ma sono grandi giocatori, grande persone che hanno dimostrato per tutta la stagione la loro bravura, la loro serietà, la loro abnegazione. Sicuramente per quanto riguarda il Presidente, li dico già da adesso, che purtroppo per lui probabilmente noi sicuramente teneremo a fare il massimo. Io sono convinto del passaggio nella finalissima e per San Salvo li do un in bocca al lupo. Faccio i complimenti al mister Marcello perché è una gran brava persona, ai giocatori e a tutto il resto. Per quanto riguarda il Presidente mi dispiace soltanto. Ora mister, gli occhi puntati sulla finalissima contro il Penne. Sì, il Penne è una squadra difficile, sappiamo che è una finalissima, probabilmente, sicuramente potremmo passare addirittura con il pareggio, ma non potremo andare a giocare per il pareggio, noi andremo per giocare la partita per cercare di vincere, anzi, ne sono certo che la squadra reagirà come sempre, è una sconfitta che tutto sommato è la meno indolore e quindi tutto sommato l'accetto serenamente. Siamo con il responsabile dell'area tecnica dell'US San Salvo, Nicola Di Santo. Mister, termina qui, culmina la stagione dell'US San Salvo, indubbiamente una grandiosa stagione, la vittoria della Coppa Italia di promozione, la Coppa Disciplina, miglior realizzatore, e l'uscita contro il Vasto Marina, con una vittoria, dopo essere stata sconfitta nell'andata, una vittoria allo Stadio Aragona di Vasto. Come ha visto la sua squadra in questa stagione? In dubbio che la mia squadra ha fatto una stagione straordinaria, che si conclude oggi, è vero che si conclude oggi, ma dopo una partita in cui penso che il San Salvo si avesse fatto le due o tre palle gole, e soprattutto se anche al San Salvo, quando cade qualcuno in area di rigore, avessero dato quello che gli toccava, cioè il calcio di rigore, come è successo in tutte e due le partite, al Vasto invece, la minima occasione, gli hanno dato due calci di rigore per noi inesistenti. Non posso che fare un applauso a tutti i ragazzi, al mister e a tutto lo staff tecnico per come hanno gestito la situazione, per come siamo usciti oggi vincenti da questa... Io non avevo dubbi, l'unico rammarico sinceramente ce l'ho della partita di domenica, perché abbiamo dimostrato di avere un po' paura, quindi timorosi, e noi non dobbiamo essere così, dobbiamo sempre, secondo il mio pensiero, sempre imporre il nostro gioco, perché siamo l'US San Salvo, il campionato in promozione dell'US San Salvo è una grande, quindi dobbiamo giocare sempre da grande. Per quanto riguarda, ripeto, sono un po' rammaricato, abbiamo sbagliato tanti gol, ci stava qualche calcio di rigore, a favore nostro nel primo tempo, io avrei voluto vedere, se passavamo in vantaggio qualche minuto prima, come le cose sicuramente potevano cambiare. Però detto questo, devo fare anche complimenti al Vasto Marino, veramente ha dimostrato di essere una grossa squadra, anche se, ripeto, su queste due partite, ma anche quelle di campionato, non hanno dimostrato tutto ciò che vanno sempre dicendo, 30 punti avanti, 30 punti dietro, si è dimostrato che il San Salvo poteva competere, indubbiamente loro avevano dei giocatori di categoria, di categoria nettamente superiore, come Giuliano, lo stesso Contini, lo stesso Ambrosecchia, però, ripeto, complimenti a loro e non posso fare altro adesso che augurare loro una vittoria del campionato, quindi anche in questo play-off, e quindi vederli in eccellenza l'anno prossimo, perché per ciò che hanno speso, per ciò che hanno fatto, per come hanno programmato da persone serie, meritano sicuramente una categoria superiore. Lo merita Vasto Marino, ma lo merita soprattutto Vasto come città.